Sono novità sullo stadio? Novità breve no, però anche di questo prima di fine campionato ci rincontreremo anche con Merdella però lì sono sicuramente molto positivo e ottimista per la situazione perché veramente si comincia a vedere quella musa luce che vivevo da tanti mesi adesso un attimino, anche per logistica, qualche settimana ci siamo un po' fermati tutti ma non riguarda certamente il progetto, è un barato discorso